Io penso che la comprensione esatta dell'impegno di Stefanini anche sul fronte pedagogico ed educativo vada considerata alla luce della sua esperienza biografica. Stefanini è stato sicuramente direi un cristiano militante, nel senso che profondamente credente come era, sempre fin da ragazzo ho percepito questa idea della vita, della vita to cure, della vita cristiana in specie come una sorta di milizia. Svestiamo questa espressione da ogni riferimento guerresco per dire la vita come impegno che sollecita la responsabilità, come esperienza che sollecita la responsabilità, responsabilità di fronte alla storia, responsabilità di fronte agli uomini. Ebbene, questo senso della militanza, dicevo, lo esprime con molta chiarezza negli anni giovanili nei quali si trova ad assumere responsabilità considerevoli all'interno di quella che all'epoca era certamente la forma associativa più importante del laicato cattolico, vale a dire l'azione cattolica. E all'interno di questa esperienza produce una serie di riflessioni molto significative, molto interessanti, che qui non abbiamo il tempo per poter riprendere in compiutezza, ma che meriterebbero di essere considerate. Dunque, dicevo, queste considerazioni preliminari per indicare il punto di partenza di Stefanini, cioè non possiamo arrivare subito a parlare del personalismo educativo, prescindendo da quella che è stata la sua biografia. Un dato interessante che merita di essere posto subito in rilievo è il seguente, che fa capire come vi sia in lui un nesso strettissimo tra riflessione filosofica e riflessione pedagogica. Era solito dire che la pedagogia e dunque l'educazione sono il banco di prova delle teorie filosofiche, ritorneremo tra un istante su questo aspetto, mi sembra molto interessante. Cioè l'idea che la filosofia ha bisogno di essere vagliata per considerare se le sue argomentazioni, tradotte in una prassi effettiva della vita danno risultati positivi o negativi e da questo punto di vista appunto l'educazione si configura come una prospettiva di particolare rilievo. Dunque, filosofo che si è sempre costantemente impegnato in campo pedagogico, con approfondimenti molto chiari, l'introduttore ha fatto bene a fare riferimento all'importante volume del 33, Minscord, il giudizio sull'attivismo. Ma venne uno precedente, dell'anno prima, del 1932, che possiamo dire è la prima sistemazione organica del pensiero pedagogico, ed era intitolato il rapporto educativo. Ridotto proprio all'essenziale, possiamo dire che tutta l'argomentazione stefaniniana in quel testo fa vedere come l'educazione si gioca intorno alla questione centrale, cioè della dimensione della soggettività dell'uomo, vale a dire la centralità dell'io personale, l'io personale, come il punto di riferimento di tutto il discorrere intorno all'educazione. E quindi c'è una precisa prospettazione di carattere antropologico, dove l'io si presenta come realtà attiva, come realtà persistente, finita, aperta al mondo, agli altri, a dio, che sono tutte quelle caratteristiche che poi riprenderà pari pari, diciamo, nella fase più compiuta del suo itinerario, vale a dire la fase del personalismo, ed è appunto a partire da queste note caratteristiche dell'io sulle quali costruisce la sua prospettiva pedagogica, che già all'epoca, ridotta in soldoni, a che cosa doveva mirare? Doveva mirare alla promozione piena, completa, di questa soggettività, di questa dimensione spirituale profonda del soggetto, tenute in considerazione tutte le articolazioni di cui dicevo, cioè la dimensione attiva, la capacità relazionale con gli altri, con il mondo, con Dio stesso, eccetera. Giustamente, dicevamo prima, vi è stato questo riferimento all'importante testo del 33, perché Stefanini era un uomo certamente di forte capacità teoretica, ma anche di una teoresi sempre commisurata con lo sviluppo della cultura filosofica e della cultura pedagogica che veniva avanti. Allora quel testo del 33 prende in considerazione ed entra in un confronto molto serrato con quello che oramai da qualche decennio si è rappresentato come, diciamo, l'esperienza di rinnovamento educativo più significativo, che andava appunto sotto il nome di attivismo scuola attiva e che aveva avuto tutto uno sviluppo su scala europea, su scala nordamericana, con posizioni differenti, ma diciamo convergenti intorno all'idea di puerocentrismo russoiano. Rousseau è per tutta l'esperienza delle scuole attive un po' il punto di riferimento, con tutto quello che poi c'è dentro nell'Emilio di Rousseau, evidentemente, quando si parla di puerocentrismo. E in quel, dicevo dunque, Stefanini è un grande teorico, ma è anche un uomo costantemente attento alla cultura. In quel testo sviluppa una riflessione molto serrata, molto critica. Diciamo, ridotte in soldoni, sono i sì e i no all'attivismo, cioè il riconoscimento di questa centralità del soggetto, in campo educativo, è guai a dimenticare questo aspetto, ma anche critica. Le critiche si risolvevano sostanzialmente in tre passaggi. C'era un'idea, diciamo, di presa di distanza, un certo pragmatismo presente un po' in tutte le varie direzioni che aveva assunto l'attivismo. C'era soprattutto la critica a un malinteso rapporto autorità-libertà, che è un classico della riflessione pedagogica, che vuol dire educatore-educando. Ecco, e lì c'errà poi un principio che Stefanini svilupperà dopo, dice, anche in seguito, che suona così, dice, ma l'errore di questi amici sta nel considerare che per sviluppare, massimizzare la libertà del soggetto, educando, bisogna minimizzare, cioè diminuire, ridurre, praticamente far uscire di scena o mettere dietro un tendone la figura dell'educatore. No, è una posizione sbagliata. Accorre trovare una sintesi tra l'autorità e la libertà, cioè tra l'educatore e l'educando, massimizzando entrambi. Cioè l'educatore deve esprimere al meglio le sue qualità, le sue capacità, le sue potenzialità di relazione, eccetera, e al tempo stesso l'educatore deve esprimere meglio le sue capacità. Gli anni 30 sono importanti anche per il nostro discorso successivo sul personalismo perché sono anni in cui conduce in maniera forte, serrata, il vaglio con la cultura del tempo, l'attivismo e l'esistenzialismo, che sta venendo avanti ormai a passi solleciti. E per Stefanini esistenzialismo vuol dire misurarsi con la cultura tedesca e con la cultura francofona fondamentalmente. Il testo del 33, del 38, chiedo scusa, il momento dell'educazione, giudizio sull'esistenzialismo, un testo molto importante per la parte anche che considero io, perché ha delle pagine durissime, durissime, nei confronti di quella che egli chiama la sinistra d'Ilteiana, d'Iltei, che egli considera un punto di riferimento per l'esistenzialismo tedesco e che trova in una serie di pedagogisti, tra i quali Ernst Krieg, che era un po' il pedagogista fiore all'occhiello della Germania nazista, ecco, trova un punto di riferimento per lo sviluppo di una critica serrata, tant'è che la cosa gli procura anche difficoltà con la censura fascista e quel testo deve essere ritirato e demandato in alcuni passaggi. Una critica molto dura dove fa vedere che appunto un certo modo di intendere l'uomo, la vita e il mondo porta, nel caso di Krieg, a quelle derive di carattere etnocentrico, razzista, statolatrico, contro i quali evidentemente una posizione come quella stefaniniana non poteva che esprimere il massimo, il massimo di dissenso. Sappiamo che il pensiero stefaniniano è un pensiero che si sviluppa, io dico in una coerenza di prospettive, ma segue alcune tappe, fondamentalmente sono tre, la tappa degli anni venti, quel tentativo interessante poi sul quale sono scatenate tante polemiche, tentativo di conciliare in qualche modo la cultura filosofica e pedagogica dominante in quel tempo in Italia, cioè l'idealismo, cioè gentile, e il cristianesimo. E quel testo del fine anni venti parla di un'ideali, ipotesi di idealismo cristiano, è la prima fase. La seconda fase, spiritualismo cristiano in senso proprio, che approda poi al personalismo sugli ultimi, subito dopo la guerra, insomma. Ecco, allora, l'approdo al personalismo è l'esito finale di un pensiero che oramai è diventato maturo, ma che ha subito, attraversato una serie di passi, di passaggi. Naturalmente su questo punto d'approdo il personalismo, la riflessione filosofica specifica, anche in queste interviste, porrà tutti gli approfondimenti necessari. Mi limito semplicemente a dire, a proporre una sottolineatura che diventa importante anche dal punto di vista pedagogico, cioè a dire l'idea della persona, l'idea della persona. Che quando noi andiamo ad analizzare l'idea della persona ritroviamo quelle note che succintamente ricordavo, già espresse nello spiritualismo del momento educativo. Ecco, l'idea della persona a me, ripeto, al di là di tutti gli approfondimenti che i filosofi possono fare, c'è questa sintetica e fulgorante espressione. La persona in fondo è considerata a Stefanini come parola. Parola, cioè la persona è strutturalmente comunicazione, è strutturalmente capacità produttiva, è strutturalmente realtà che è capace di dare significato alla realtà. Ecco, la persona come parola, la persona come comunicazione, eccetera. E in una prospettiva tutt'altro che, diciamo, da spiritualismo ingenuo, la persona è realtà incarnata. Qui c'è una piena consonanza tra Stefanini e Mounier. La persona non è, dico sempre ai miei studenti, un'animella bella che vive, non si sa bene dove, in quale angolo, della nostra corporeità. La persona, cioè la dimensione profonda spirituale dell'essere umano è incarnata, è dentro una carne viva, è dentro una storia, eccetera. Tutto questo è fondamentale perché ha delle ritadute importanti sul piano, sul piano strettamente, sul piano strettamente educativo, nel quale il piano educativo, in questa fase piena di maturità della sua elaborazione, Stefanini arriva a definire quella che gli chiama la formula del personalismo educativo. Anche qui procedo in termini molto schematici e sintetici, ma penso che anche a chi ci ascolta, insomma, saranno colpiti dall'efficacia di queste sue formulazioni. La formula del personalismo educativo, che egli la riassume così, io la sintetizzo ulteriormente, è la maieutica della persona. È chiaro che dietro c'è tutta la reminiscenza socratica di questa espressione. L'educazione è la maieutica della persona, io lo dico sempre ai miei studenti. Se vi chiedo questa cosa, cercate di essere precisi nella risposta, perché è davvero il cuore questo, il cuore della riflessione stefaniniana. E sappiamo che l'arte maieutica, nella visione socratica, cosa significava. In Stefanini che cosa vuol dire allora questa sottolineatura? Vuol dire che l'educazione ha un obiettivo fondamentale. Se fallisce questo obiettivo, tutto il resto è fallimento sulla linea generale. Allo scopo l'educazione di tirar fuori, tirar fuori l'essere personale, perché da grande realista qual era Stefanini si rendeva perfettamente conto che in un certo senso siamo ontologicamente persone, ma al tempo stesso la persona è tutta da costruire, tutta da edificare. Sta qui il compito dell'educazione. Allora fare in modo che venga fuori, che si promuova in tutta la sua potenzialità. L'arte maieutica, l'arte maieutica della quale deve essere l'educatore, ogni educatore, il papà, la mamma, l'insegnante, eccetera, deve essere particolarmente esperto in questa capacità di trar fuori, di portare alla luce, ad evidenza. Cosa significa al di fuori di un linguaggio che può sembrare anche un po' allusivo o troppo allusivo, eccessivamente metaforico? Vuol dire portare ad evidenza, quindi a una capacità operativa, di tutte le dimensioni strutturali dell'essere persona, il pensiero, l'affettività, la relazionalità, l'amore, la capacità di amore, di amare. In un'ottica di grande antropologia realistica, nella consapevolezza che questo processo maieutico è un processo che si distende nel tempo, non avviene immediatamente, è un cammino, espressione che Stefanini non usa, la usiamo noi oggi, è un cammino, appunto è un processo, cioè a dire è una realtà che si distende nella temporaneità. E questo realismo molto preciso dal punto di vista antropologico, ecco, lo portava anche a mettersi e a mettere in guardia tutta una serie di rischi che riteneva tutt'altro che superati e anche qui sempre in confronto con la cultura del tempo. Due sottolineature mi pare bello ricordare. Il rischio del pelagianesimo pedagogico, era, insomma, la prosa, la scrittura di Stefanini è affascinante, ha dentro poi queste fulgoranti intuizioni che colpiscono i lettori, ci restano impresse. Il pelagianismo pedagogico, cioè, e qui è sempre Rousseau sullo sfondo, il punto della contesa teorica, c'è il mito russoiano della bontà naturale del bambino. Doveva stare in guardia al pelagianesimo che nei nostri tempi, i suoi, cioè quelli dell'immediato dopoguerra, continuano ad essere un rischio presente, presente nel modo di pensare l'educazione e di elaborare concretamente l'educazione, la bontà naturale del bambino. Attualmente noi qui si vede dietro tutta la visione cristiana non ingenua sull'appunto la presupposta bontà naturale dell'essere umano. L'altro rischio lo tira in ballo Stefanini imponendosi in confronto con un'altra corrente culturale che oramai nel novecento, a metà novecento si era robustamente insediato, cioè il fluidismo. E lì parla di, prima parlava di pelagianesimo pedagogico, adesso parla di jansenismo pedagogico. C'è una visione tutto sommato, come dire, ripiegata e tendente al cupo, tendente al cupo, a una sorta di riducibile inclinazione negativa della natura umana, del minore. E qui c'è dietro evidentemente tutto il confronto con Freud, con le sue interpretazioni mitosimboliche che ben conosciamo. Insomma, ecco. Dunque, il personalismo educativo di Stefanini, ridotto all'osso, ribadisco questa sottolineatura, è da cogliersi dentro in quella formula che io ritengo folgorante, sintetica, della educazione come maieutica della persona e a partire dalla quale poi si sviluppa tutto il resto. Quindi è una lezione di valore perenne, certo. Lui era il primo a sapere che poi queste indicazioni di carattere, per così dire, perenne vanno declinate in rapporto alle urgenze, alle sollecitazioni del tempo. Però lì c'è il cuore, ecco, c'è il cuore, tutta la questione che ci interpella evidentemente. Cosa vuol dire oggi? Porsi e sviluppare un'attività, educativa in questa prospettiva, fare in modo che appunto venga fuori, si tiri fuori la persona in quello che è la sua profonda interiorità. In quest'ordine di considerazioni, sempre legato al personalismo educativo, quindi alla fase matura del suo pensiero, scusandomi proprio per la estrema sinteticità di questi passaggi, c'è un altro concetto che declina il nostro autore in rapporto al profilo istituzionale del problema educativo, che è l'educazione, sappiamo tutti, ha aspetti che attengono alle istituzioni, aspetti all'informale, eccetera. L'aspetto istituzionale è quello che privilegia il mondo della scuola, ha delle pagine molto belle sul mondo della scuola. E anche qui una riflessione folgorana sulla scuola, possiamo scrivere un volume di 300 pagine e anche di più, ma tutto il discorso stefaniano si incentra sul nodo cruciale, dice la scuola, sì, van bene tutte le riforme, van tutte bene, purché non si perda di vista una cosa essenziale, che la scuola è per la persona oppure non è. È forte questa affermazione, la scuola o è per la persona, cioè la scuola è istituzionalmente quel luogo deputato per il profilo che la riguarda a sviluppare quell'idea di maietica della persona che dicevamo prima, o è questa cosa o non è. Dunque, tutte le riforme che pensiamo o hanno a fondamento questa prospettiva o non sono, o non sono, o si fanno le riforme ma non meritevoli di attenzione. Allora noi pensiamo a quello per venire, per se si vuole, per venire all'oggi, perché è davvero un pensiero sollecitante questo, per venire all'oggi, una visione aziendalistica dell'istituzione, dall'università agli istituti superiori, una visione aziendalistica. C'è una visione di scuola, in fondo, funzionale a, funzionale ad altre cose, prima ancora che a questo centro teorico e operativo appunto della della promozione della persona. E credo che qui davvero ci sia materia sulla quale riflettere, ovviamente non in questa sede, ma in materia molto, molto, molto importante. La scuola per la persona è, nella visione di Stefanini, automaticamente scuola del dialogo. La scuola è il luogo in cui le singole persone, i logos rappresentati dalle singole persone, entrano in dialogo. E quindi entra in dialogo l'alunno con il maestro, il professore, il professore con i colleghi, gli alunni tra di loro. È molto bella questa immagine qui, assume davvero anche degli aspetti, se volete, un po' un po' lirici. La scuola è il luogo in cui le singole persone sono chiamate a dialogare. Certo, la figura dell'educatore, dell'insegnante, è una figura centrale di mediazione. Anche qui ha delle passaggi interessantissimi. In fondo, in fondo, lo studente, il ragazzo, la ragazza a scuola, deve imparare una cosa fondamentale. Deve imparare il maestro. Cosa vuol dire imparare il maestro? Cioè deve, la figura del maestro, che è figura di riferimento, ed è la figura attraverso la quale il processo educativo, che è sempre un processo di mediazione, di mediazione, di mediazione del rapporto inter-relazionale, di mediazione tra sé e il mondo. Imparare il maestro vuol dire attraverso la mediazione del maestro riuscire a imparare la relazione che si ha con il mondo fuori di sé. Quindi la centralità, ha delle pagine, qui non le possiamo prima, ma ha delle pagine veramente straordinarie sulla figura dell'educatore, dell'insegnante, per dire come è davvero questo punto di snodo decisivo. È attraverso l'esperienza di lui che il bambino conosce l'uomo, conosce gli uomini. È attraverso l'esperienza di lui che è messo in relazione con il mondo. È attraverso l'esperienza del maestro che pone la possibilità per i bambini di mettersi in rapporto con quell'altra grande realtà che è decisiva per la vita, che è il problema di Dio. E allora se così stanno le cose, la figura del maestro è una figura di uno spessore di eticità straordinaria, Stefania. E il maestro non è uno qualunque. Il maestro è uno che davvero deve assumere, se si assume fino in fondo il senso di questa sua funzione mediatrice, è allora una presa di coscienza di una responsabilità che deve giocare, lo deve indurre a giocare al meglio tutte le sue qualità per essere anche esemplare, esemplare nei confronti degli allume. Vado a chiudere tante cose ciò si potrebbero ovviamente aggiungere su questi passaggi centrali dell'ultima fase del personalismo educativo, ma ce n'è una in particolare. Da questo punto di vista Stefanini è stato anche lungimirante, aveva l'occhio avanti. Cioè lui si rendeva conto che la civiltà industriale che stava venendo avanti con la produzione di questi nuovi mezzi, strumenti, gli audiovisivi, il cinema. Gli anni cinquanta sono gli anni della grande esplosione del momento cinematografico. E guarda sempre come faceva lui rispetto ai movimenti culturali, guarda con occhio critico diremmo noi oggi con quell'attitudine al discernimento che sempre nel ragionamento pedagogico occorre avere. E qui la questione che pone in risalto è esattamente quella degli audiovisivi al centro di cinema. Certamente cose belle, prodotti della scienza, della tecnica, cose meravigliose, ma ecco, la riflessione pedagogica, o la riflessione to cure, la riflessione senso lato, deve essere sempre vigile, mettere grande attenzione a non essere banale nelle valutazioni. E lui dice io vedo un grande rischio, lo chiamava così, gli ultimi tempi scrivevo queste cose, il rischio del fumettismo, cioè gli audiovisivi, il cinema, e pensate che non c'erano ancora le trappole che abbiamo noi oggi, l'iPhone, tutte, ma ripeto, mi sembrano sottolineature che inducono ad un atteggiamento appunto di discernimento nei confronti delle tecnologie con le quali l'educazione evidentemente entra in stretta relazione. Il rischio del fumettismo, lo chiamava così, cioè, vi leggo proprio queste parole, a disposizione ad accogliere ciò che si dona senza sforzo. Di fronte allo schermo è bello, ci si dona senza sforzo, però con il rischio di cedere, dice, all'impressione pura e alla virtù incantatrice dell'immagine. Ecco, la civiltà industriale che sta sviluppando tutta quella grande produzione tecnica che è il mondo dell'audiovisivo ha dentro di sé questo rischio. Allora, il fumettismo vuol dire in fondo mettersi nella condizione dello spettatore, l'uomo che diventa uno spettatore, quindi è la condizione proprio di chi si trova ad assistere più che a partecipare. In questa maniera, diciamo, sono tutte le potenzialità che dovrebbero essere sempre attive, le dinamiche vigili della persona rischiano di essere, come dire, ammorbidite, di essere indifesa. C'è questa bella frase che vi voglio leggere, dice così, l'ora della prova per l'educazione sarà superata felicemente se essa riuscirà a formare, nelle condizioni meno favorevoli, una sfera riservata alla riflessione e alla concentrazione. Cioè il richiamo all'educazione come un'esperienza che viene meno al suo obiettivo fondamentale se fa perdere questa attitudine alla riflessione e alla concentrazione. Resistendo alle attrattive, allucinanti e dispersive, se riuscirà a mantenere destra la lacrità spirituale contro lo stato ipnotico, forte questa espressione, di chi ha gli occhi aperti per vedere tutto, forché per accorgersi di sé stesso. Ecco, il rischio che vedeva in questo mondo dell'immagine, sappiamo che sull'immagine ha scritto tanto Stefanini, una posizione passiva, recettiva, si vede tutto, ma con il rischio di restare alla superficie, di perdere quella capacità di entrare in sé stessi, di accorgersi di sé stessi, che è la condizione evidentemente per sviluppare tutte quelle attitudini di autocoscienza, di responsabilità, eccetera, eccetera. E in quel passaggio che vi ho letto, qualche riga sotto, giunge anche ad un riferimento specifico all'educazione cristiana, con la quale mi piace chiudere questo nostro incontro. Dice, ecco, in questo compito l'educazione cristiana deve essere impegnata a un titolo speciale, perché il suo spazio è quello dell'intimità, lo spazio del carattere, del dovere, della libertà. Ecco, erano righe queste che Stefanini scriveva negli ultimi interventi, nelle ultime uscite della sua vita, come sappiamo conclusa in fondo, anche in un'età non particolarmente avanzata, nel 1956, e mi sembra siano una consegna, ecco, che sollecitano oggi a provare a sviluppare queste considerazioni in rapporto alle sfide che abbiamo davanti, che non sono più o non sono soltanto quelle del cinematografo, ma sono tutte le sfide della tecnologia che hanno questo potere ammaliante, ti attirano, eh? Se vediamo i nostri ragazzi, i nostri adolescenti, con gli iPhone, con tutte queste, con tutte queste le PlayStation, i giochi vari, eccetera, sono catturati i denti, il rischio denunciato da Stefanini è quello di accorgersi di tutte queste cose, perdendo però la possibilità, la capacità di accorgersi di se stesso e quindi di recuperare la profondità del nostro essere umano con tutti i rischi che questa cosa finirebbe con il comportare. La realtà educativa, scolastica in particolare, è una realtà molto articolata, anche in un paese come il nostro, cioè abbiamo situazioni e situazioni. Ci sono situazioni in cui il lavoro che si fa nelle scuole è eccellente e situazioni in cui invece il lavoro che si fa è di qualità non particolarmente brillante. Io dico, considerando il rapporto a questi messaggi che Stefanini lanciava, a me pare che il suo pensiero, la sua sollecitazione è capace in qualche modo di far germogliare domande importanti, domande significative anche per il nostro tempo. Cioè quello che lui ci diceva negli anni 40 e 50 sulla scuola che o riesce a sviluppare quell'idea di maieutica della persona o non è scuola, vale ancora oggi. E certo oggi noi dobbiamo misurarci con tutta una serie di situazioni per certi versi molto più complesse, molto più complesse sia sul piano sociale, pensiamo qui soltanto al tema della secolarizzazione che investe completamente le nostre strutture educative a scuola in primis e sviluppi sul piano tecnologico, ecco, che certamente su questa invasione delle tecnologie, dell'informatica eccetera, senza volere demonizzare ci mancherebbe altro che hanno solo dei prodotti che ci consentono delle operazioni straordinarie, però hanno dentro quel rischio della passività, del lasciare passivi o del tenere meglio a livelli di superficialità il modo di essere dei nostri ragazzi, dei nostri adolescenti, con il pericolo di non fare il passo umanamente più serio che il passo di rientrare in se stessi, di aprire dei canali di interlocuzione con sé, con gli altri, di riuscire a porsi le domande di fondo, ecco. Allora i contesti, ripeto, scolastici odierni sono molto diversificati tra di loro, poi dico un conto è ragionare sulla scuola in una città straordinaria come Padova e un conto è ragionare sul problema della scuola che so a Ballarò, a Palermo, dove pensate anche i contesti, i contesti sociali in cui sono dentro le scuole, che problematiche diverse. Ripeto, quindi, una situazione molto articolata, non è facile e credo addirittura impossibile dare delle risposte univoche a domande come quelle che lei mi faceva. Certo, quando noi andiamo a pensare a questi grandi autori, Stefanini è uno di questi grandi autori capaci di provocazione, mi sembra di poter dire che c'è una possibilità di attualizzare quelle sollecitazioni, quelle provocazioni che vengono fatte in rapporto all'oggi perché il nucleo portante di quel messaggio non vada perduto ma diventi un nucleo problematico che è capace continuamente di fare riflettere e ragionare. Con la consapevolezza, io su questo sono totocorde d'accordo, non solo su questo, evidentemente con Stefanini, che o i nostri ambienti educativi, primis la scuola, riescono davvero a lavorare in quella direzione lì, di portare ad evidenza quello che siamo nella nostra interiorità profonda. Oppure, sì, mettiamoci dentro le tecnologie, insegniamogli l'inglese, è giusto insegnare l'inglese, no? Le famose tre I, di cui qualche politico, un po' di impresa, van bene tutte queste cose, ma se la battaglia non la si vince su quello che ci dice Stefanini, quelle cose portano a risultati davvero umanamente significativi. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!